Sì, senti che i freni veramente offrono le meno, diciamo, eh. Motore, mamma mia, è calda, è calda. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e bentornati su WRC23. Allora ragazzi, stasera sarà ancora più dura perché si corre con le gruppo B a trazione posteriore su dei mostri e stavolta il rally non lo finiamo, ve lo dico prima, non ci sarà possibilità. Come l'altra volta non c'è sta riavviamo. Staremo collegati con l'ingegnere anche se durante la tappa spengeremo i microfoni, insomma, quindi ognuno sarà per conto suo, però poi a ogni stage ci rimettiamo in collegamento con lui. Prima di andare avanti però vi voglio rubare un secondo per farvi vedere questa statistica. Molti di quelli che guardano i video di questo canale non sono iscritti, quindi vi ricordo che se vi piacciono i contenuti, iscrivervi non vi costa niente, ma date una grossa mano al canale perché più iscritti ci sono, più ci si presentano opportunità di far cosette molto molto fighe. Quindi quello è il tasto iscriviti, se vi va iscrivetevi. Qui c'è la scelta delle macchine, c'è stata la sceglie tra la M1, la BMW, bellissima tra parentesi, la Lancia 037 che è un mostro, l'unica turbo, è veramente non seguita, è inguitabile. Poi c'è la Opel Manta 400 e la Porsche 911 SC RS. Allora noi tra tutte queste andremo a scegliere proprio la Opel Manta. Non è che ho digerito tantissimo. Cattolo che stasera per cena mi sono mangiato pure quasi mezzo Pandoro. Sinistra difficile e poi tornante destro. e accenno sinistra. Sinistra medio e scosso non tagliare. Non devo tagliare. Bene così. Ok, ok, ok. Attenzione, sinistra difficile, tornante medio, all'arrivo. Ok, il tempo di 6 minuti, 19,4. Eh, io sono arrivato ingegnere. Eh, pure io sono arrivato. Il problema è che, avvocato, prima tappa cappottamento è bucato. Porca Eva, mi stavano a di qui. Ho fatto una fine miserabile. Che potenzione stai avvocato? Sono 176esimo. Eh, su 253. Riusciremo a far i acce davanti l'ingegnere pure che si è cappottato e c'è un minuto di penalità. Attenzione, è strafacile. Dosso, dosso. È strafacile, non tagliare. Sinistra facile. Tutte facili sono queste. E ora lo faccio qui da lui. Sinistra facile suddosso, questa qui. In sinistra facile, rallenta. Sinistra facile, rallento. Eccolo, eccolo che andavo di sotto, mamma mia, eccolo che andavo di sotto. Sinistra difficile. Eccolo che andavo di sotto. Non c'è mancato niente, raga. In sinistra facile. Poco tutto sto sui gigi, è tanto che in vomito. Accendo destra, suddossi. Comunque ho sentito il motore, strano. Comunque a me pare che sto la mattrattato in alto, però. Sinistra media. Dosso, dosso, sinistra media. In destra difficile. Sinistra media, su avvallamento. In destra facile. Attenzione, dosso, sinistra facile. Dosso. Dosso, sinistra facile. Rena, dosso. No, ecco il muro, questo l'abbiamo preso, raga. In sinistra difficile. Comunque io per ora sono 148esimo in classifica generale. Eh, vedi che in classifica generale io, aspetta che glielo dico, sono 123esimo, guardi, già arrivato. Allora, riparazioni. Ah, allora, tutto sommato poteva andare peggio, eh. Partiamo su asfalto qui. Non ho fatto il rompercambio, io non lo so, forse qualche cambiata sbagliata. 3, 2, 1, via, dopo incrocio. Dosso, rallenta. Dosso, rallento. Destra difficile, su sterrato. Ok, destra difficile, questa qua. Rallenta, destra media, su dosso. Tornate a sinistra. Destra media, su dosso. Tornate a sinistra. Sinistra media, destra media, attenzione, sinistra difficile. Sinistra facile, sinistra media, chiude media. Chiude difficile. Ragazzi, continuo a ripetelo che quello che mi dice, perché così lo fisso in testa. Destra media. Sennò me lo scordo. Dosso. Sinistra facile, dosso. Dosso, sinistra, sinistra, destra, scopposa. Destra media, su dosso. Sennò pari, grande. Destra difficile, sinistra media. Uh, sinistra difficile, scappa. Comunque, 7 minuti, 0,8,8. Ah, poi ha fatto meglio di me. Uh. 7 minuti, 09,74. Dosso. Abbiamo preso l'autostrada, raga. Sinistra facile, dosso. Sinistra media. Oddio, 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 oddio. Mi aspettavo che scivolasse e non scivolasse più giustamente se ha asfalto. Destra facile, sudosso. Stata qua ci ha dato almeno 20-30 secondi l'ingegnere. No, io ci ho messo 6 minuti e 27. Eh, io ho 38. Ho guadagnato 10 secondi, a bocca. Sinistra facile, sudosso. Se ne va al puto la macchina, ragazzi. Non so perché. Ce lo so perché, perché l'hanno sfasciata, però. Ne va veramente male, adesso. Tornata. Dosso, rallenta. Dosso, rallento. Inizia invece paura il navigatore. Sinistra media. Dosso. In destra facile. Dosso, in destra facile. Dosso, sinistra facile, sudosso. In destra media. Campo, campo, campo. Cigoria, Cigoria. Ok. Destra sudosso. Poi io non ho, a schermo, le marce. Perché non l'ho dovuta emette. Destra media. Però sull'Opel Kadett c'era l'indicatore. Chiude media. C'era il punta marce. Su questa non c'è. Dosso. Quindi non so mai in che marcia sto. In sinistra facile. Guarda, ho orecchio, diciamo, però. In destra piccine. In destra piccine. Indosso. Oddio, 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 oddio. In destra parte. Oddio. Veramente, raga, lì c'ha tenuto Gesù Cristo. Sono 88esimo in questa tappa. No, no, sono 1006esimo. Avvocato, tu questa la vinci? Ma che... Senta, ingegnere, inizia a fare un magop. Sto piagnone, sto piagnone di merda che mi piace sempre. La nostra macchina continua ad essere sempre più acciaccata dal lato destro. Perché evidentemente il lato destro non lo vedo bene. Perché io sto a sinistra e quindi quello che succede del lato è un po' ipotetico. Ok, dai. Destra facile sull'osso. Dai, dai. Dosso. Dosso. Salto. Salto, lamentamo. Se non lo facciamo male. Sinistra difficile su asfalto. Sinistra difficile su asfalto. Ok, questo era il pezzo d'ogostrada. Lo so. Tu la devi smettere. La prossima volta che ti diceva, lo sai, mi piace questa cosa. Oh, quasi quasi la faccio pure io. No. Addirittura me caccia via, ingegnere. Sì, sì, me la caccia via perché... Sennò poi... Tipo, tu muovi, quanto hai fatto? Sessantatreesimo. Sessantatreesimo. Questo sta diventando... Ok. Ok. Ricupate degli ingegneri, si inizia a far vedere. Già ne stiamo più a indovinare una curva. Posso in destra difficile? Oddio. Sto in destra difficile, non tagliare. Sto in destra difficile? Eh, calza. non avrete tutto facile invece porca eva porca piccolo incidente di percorso, lo sapevo prima o poi dove c'è da sinistra avvocato mai dicevo che ti fa destra media motore, mamma mia, è calla, è calla porca troia che trambata raga, hanno spiattellata siamo volati giù no, ci siamo incastrati raga no, 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 ci siamo incastrati raga è finita così raga ok, incredibile, forse ci siamo ripresi niente è finita, è finita, è finita è finita raga, sono non pallati è finita così ripristino l'autopista, attenzione porca troia, se lo sapevo, facevo prima abbiamo sfannato la macchina sono rimasto di un ora e un quarto e mori l'ingegnere, giustamente forza di tiracce pupate ho dato una ciabattata addosso un sasso gigante mi sono incastrato, sono rimasto fermo lì tipo 40 secondi cercando di scia alla fine l'ho resettato, ho preso pure 5 secondi di penalità no, io invece mi sono bloccato a un certo punto ho fatto la manovra allo steam powers tipo mi sono bloccato a te dove stanno dove stanno i massi a destra e a sinistra ho fatto la manovra, 18 manovre mamma mia ingegnere, io ho la macchina distrutta ho motore, danno grave scarico, danno critico radiatore, danno critico cambio, danno grave freni, danno lieve sospensioni, danno medio carrozzeria, distrutta, danno critico luci, danno grave sterzata, danno grave differenziale, danno lieve io direi che il mio rally sta per finire è impossibile, è troppo difficile ma perché fuma così però? avrò riparato il radiatore vabbè distra media se ci andavamo con il tagliere andavamo più veloci però eh ma raga penso che questo sarà l'ultimo che fiamo con la macchina è così lenta raga che non faccio mai con più fatica a leggere la chat soprattutto che se non avessimo avuto quella mezz'ora lì incastrati cercando di sci e facevo subito il reset sinistra media era meglio mi hanno raccontato cose cose terribili la mia macchina va tipo un vaporetto davanti che fa più fumo che si era a legna e poi va veramente a tre cilindri e catorcio cioè non cammina proprio più questa è la parte più la parte tipo alla Rocky Balboa del rally ad arrivare alla fine la macchina proprio non va più ragazzi perciò si tratta di una lenta agonia no ma le sospensioni alla fine dovremmo averle riparate quindi dovrebbe essere l'unica cosa sana che ci sta il problema è che a questa velocità qui andiamo noi noi stiamo a fare un'altra categoria praticamente ormai non so più il gruppo B cioè dai 400 cavalli ci saranno rimasti 70 è un peccato perché alla fine avevamo preso il ritmo con questa macchina potevamo sicuramente innanzitutto risparmiarsi qui di 30 secondi lì a cercare di uscire dal fosso pertanto la fine dovevamo risentare e poi magari evitate il passaggio di Torelli con la macchina che va veramente a carci l'ingegnere la poca si è perso? no ma io non so perso sta macchina non cammina mai con più a carci no vabbè finché la barca va a poca sì sì 96 esimo 11 minuti spaccati lei ormai vereggia verso la vittoria ingegnere adesso sei ribaltata la situazione poi sei ribaltata la situazione corro corro non mi arrendo non mi arrendo io finché la macchina cammina continuo raga mancano tre tappe e io ce provo a finire i rally ma la guerra non c'è mai cioè non c'è mai stata competizione con l'ingegnere perché io lui è più forte però se non ci diceva male un coincidente probabilmente sì sì ma tutta esperienza sì poi mi diverte la sfida di non essere capace in tutta cosa in destra difficile io sono veramente per altri stili di guida raga cioè io adoro lo stile di guida formula quindi pensate come lo posso trovare nei rally destra difficile però comunque sia non me ne frega nulla sta a aiutare la discesa raga cioè sta a aiutare pure a lui ovviamente però a destra non tagliare io accendo sinistra sicuramente il motore è meno in difficoltà in discesa sinistra media sudosso eh ci mancava questa porca Eva porca cazzo la mia macchina calcola che hai visto il pezzo del rettiligno su asfalto? sì non ce la facevo arriva a 100 ma che cazzo c'è fatto sto motore? ho dato una pezza cioè sono decollato e in aria sono atterrato su una roccia che era grossa come il gran sasso via e purtroppo via guarda sta macchina quanto va storsa quindi essendo una una pippa assoluta rally e non riuscendo a nasconderlo in nessun modo sinistra facile dosso destra difficile ho decisamente destra media inficiato le prestazioni della mia macchina che come al solito qui si gira non so perché cioè non so benissimo perché perché è più storta den boomerang adesso poi è tutta storta ragazzi io fanno a dritto la devo tenere per squincio praticamente andate a sinistra destra difficile si scende più veloce esatto però c'è ancora l'ultima tappa c'è ancora l'ultima tappa grattazzo ti ho pallorum andiamo a farlo a me sta fumando il motore benvenuto nel mio mondo io sembra che sto fa una grigliata davanti il fatto è che è dietro quindi non lo vedo io invece ce l'ho davanti ce l'hanno i varianti nebbia per vedere quello che c'è succede davanti all'arcofano vedo un cazzo tra il fumo a montagna a sabbia a rislivello e calla e calla siamo finiti di sotto non ti fermai non ti fermai che non usciamo più brava sinistra difficile dentro da dritto devo tenere lo sterzo girata a sinistra raga in destra difficile senti quanto sta in a dritto la mia macchina sinistra media dosso dosso destra media sinistra media dosso oh non gira più non gira più che è successo non gira più ragazzi non gira più non gira più è successo qualcosa aiuto non gira più a sinistra non gira più a sinistra ragazzi non so che è successo non gira più a sinistra non gira più a sinistra no io gli arrivavo a fine non gira più a sinistra aiuto guardate come devo guidare aiuto non gira più a sinistra destra difficile si è rotto lo sterzo col tutto direi non so come non capisco come faccio a guidare fino alla fine non gira più a sinistra ma in un modo dell'altro ci deve arrivare a sinistra gira gira stavolta è impossibile ragazzi stavolta non ho finito insieme perché noi non abbiamo preso niente porca troia no non casca di sotto non casca di sotto io non mi rendo never give up a sinistra media a sinistra devo girare a gas no no non gira più manca a destra raga aiuto aiuto ok ok stai calmo non è nata e prescia guarda che tante posizioni stanno arrivando arrivo all'arrivo ok il tempo è di 10 minuti 25,9 sono il 59esimo attenzione hanno finito il rally di 87 grande lei ingegnere è arrivato il 39esimo grande ingegnere 39esimo si così